Niente ragazzi, non è che sono morto, è che tipo, boh, è crashato, è crashato tutto, ho fatto così, ho detto no, sulla scrivania, mi sono disattivato, ho detto ma, perca puttana, che cazzo succede, è sta roba, mi stai chiedendo, che cazzo vuoi, secondo me è crashato qualcosina ma, ma porco di quella, troia puttana. Mi fa connettere a battleground, gioca, su gioca ragazzi, non vi ho abbandonato, non vi ho abbandonato, avete pazienza, no, sta arrivando, non so che cazzo è successo, è partito tutto, Sì, sì, ci sono Ale, ci sono, aspetta Ci sono, ci sono Ale, ma mi è crashato tutto, mi è crashato tutto, cio santo. Dio santo, il delirio proprio, il delirio. Cioè, ho fatto così, no, letteralmente, cioè, sulla scrivania ho fatto tipo, eh no, c'è, ho un colpito, io mi sono spinto tutto. Ho capito che non devo, non devo più, non devo più fare cose del genere. Allora, so, cio, le invitiamo i brother, sono proprio un... Allora, penso se avessi dato un pugno più forte, cioè, avrei visto tutto. Allora... Nemethith, gioco delle armi, no... Lev... L'Ubalut... La cosa che mi scoccia è che adesso, praticamente, è ripartita... Eh, guarda, sono crashato, Tev, totalmente. Eh, sarà... No, allora, me ho ucciso uno, e ho fatto... Ho fatto, eh no, ho dato un colpetto alla scrivania, sei disattivato al computer. Ma ho un colpetto, lo... Sei disattivato tutto, ci santo. Adesso è molto invitato anche Nemesis e Ale, dovrebbero entrare tutte e due, cioè... invito ma lei che non è giusto adesso il ragazzo o lo conoscevi da prima e l'ubalo? no lo conoscevo da un bel po' era ah qua c'è anche eroi però sta giocando in quartetti c'è paul, paul potremmo invitare anche paul dai invitiamo paul che ho visto che paul non fa il multi ah non ce l'ha? no ce l'ha ma lui non non gli piace giocare al multi è venuto a farla privata perché eravamo contatti e poi alla fine si è divertito secondo me mi devo togliere stream element come gestore e voglio metterci white spot puoi metterci anche botrix che cos'è botrix? che sta roba? è sempre tipo stream element solo che se tu in un futuro vuoi fare su youtube su kick eccetera c'è un'impostazione che importi tutti i tuoi alert uguali e ce li hai in tutte e tre piattaforme questo ha bisogno di stare lì a settare capito? secondo te perché fanno delle skin così brutte su quad? vabbè gli invitati li ho invitati avviamo e poi si aggregano poi appena si aggregano stanno facendo avevo fatto il gioco delle armi mi sembra eh ho visto ho visto ma prima l'ho fatto ma cioè non avevo capito cos'era cioè avevo capito cos'era ma non mi piace tanto il gioco delle armi ma te Scansio cosa vuol dire? la rival o la MCW? perché la MCW l'hanno ma dire a Scansio di entrare in game su dai cioè dovevano aver fatto mi sembra dire Scansio 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 entra in game Scansio dai Scansio andiamo a vedere il timing aspetta aspetta grandi ragazzi oh mi ha cacciato tutto ragazzi mi ha cacciato tutto allora che è sta roba? Alexa Alexa metti U-Porn eh magari e dietro ho dato un pugnetto alla scrivania e esploso il computer tipo la potenza del Cobra prego no liscio eh no da da mk non è easy come da pad perché vedi il problema è che se c'è il pad ti incazza e prendi il pad e lo butti via se invece giochi col mouse te hai un pugno sulla scrivania è diverso esatto è giusto è giusto perché noi siamo trago ragazzi allora Neme il tuo compito sarà quello di irrigere un mio totem e trovare fedeli che idolatrino la mia fede quando vuoi tu sarai da oggi sarai il mio Mosè bisogna fare le classificate col Cobra che ti diverti guarda Neme non devi neanche sparare un colpo se giochi con me in ritorno e vinciamo le partite inizie a prendere le piattrine 0 kill 0% di danni vittoria eh nani niente non muore oh no che lì madonna gli ho fatto gli ho accorciato i buffi con la spada guarda ma sto coglione col pompo ma bella ma fintante l'intervento ma che sta arrivando Cobra da dove grande eh mamma ma sono tutti senza ma il Dio Neme esiste secondo voi è semplicemente una divinità o è la divinità per eccellenza lui è un Dio o è il Dio degli Dè vogliono 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 prendere un po' di cella di qua non ho capito ma davvero quello è camperato lì da mezz'ora ma da che angolazione c'era uno camperato c'era uno camperato due sono no 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 ma davvero c'era uno camperato in un corridoio Allora Tev se vieni da me ti insegni un posto incredibile Quella mia amata sto qua Ok è quel ragazzo incredibilmente sexy Tev vieni da me Tev ti faccio vedere una cosa Ho lasciato qualcuno io devo camminare così che sembra che c'ho un cucetrone in culo Ho c'ho uno qua E qua attenti raga che sono nel corridoio Ti faccio vedere un punto fighissimo Mi scappi dove sei? Sopra di te Sopra Sopra Sali lì e poi salta qua Se salti qua sopra Lì qualcuno te le fai se stai 4-4 zitto zitto No Porca torre mi è un culato da lì Se stavo lo uccidessi stavo qua invece E dai allora C'è uno camperato lì raga Voglio una easy Ed Arriva da sotto Arriva da sotto Ale Ale arriva da sotto Ma dai impossibile che questo Quello lì come l'hai scoperto? Colt Evok Oddio Ah si? Mica abbiamo parlato di quelle cose da Colt Evok e da quegli altri che C'è se davvero mi impegno Penso che li aro qua Tanto Cambio Che cazzo Mamma Che cazzo è successo? Chi è? Nooo Dile la cobra diventerà una divinità quando parteciperà a una CDL privata contro il caos Però io non ci sono perché sapete che io la sera non ci sono così mai E devi dire ai caos che devono idolatrarmi cioè perché io sono il cobra god Cioè se idolatrano un dio il dio gli da una mano Diventano ancora più potenti Diventerebbero i caos ma con la K No levati dai coglioni madonna Che schifo Non fatemi arrabbiare il dio Nemesis eh Che la sua ira potrebbe distruggere il mondo Ma questi comunque girano se vedi i stessi punti No ho sbagliato Ma perché a volte per mettere i tasti sbagliati sulla tastiera Ma l'avete ucciso il tipo che era qua? Questa è un'informazione un po' strada Tev perché qua vuol dire tante cose Esatto Ma oddio non lo vedo più penso che si Tev non esageriamo dottor Tev Ma dove? Il dio cobra è qualcosa di speciale La santa zappetta Cioè se te salti da qua Poi vieni qua ce la fai eh Dove? E anche puoi anche saltare lì E' uguale Però volevo farti la più bella perché Almeno lì hai visto che puoi anche saltare qua E qua se ti metti in copertura Aiuto Lì se tu ti metti in copertura E' difficile che ti becano da dietro dalla cisterna Dove? Vedo un cazzo Beh non l'avevate fatto quello lì Non mi compariva più Lo vedevo una sega Da dietro sapevo che mi incappettava Mamma mia con quel car c'erano tutti i coglioni Eh si Adesso lo piglio anch'io il car Sono per sfizio guarda Se vuoi io lo piglio DMV Cioè è quello che si merita sta gente guarda Il car M***a questo qua si è girato Mi ha fatto in tre pallotto Chi è? No c'è uno caricato lì Grandissimo M***a nemmeno rischio paura Mi hai fatto prendere Perché lo dici perché non hai ancora visto nudo Adesso lo devi tutto però insomma Ma stavo bevendo e mi stavo affogando Ma per la battuta non Non mi mette Magari bevi Nel senso che Cioè nel senso che se lo vedi nudo C'è qualcosa che ti spaventa Cioè l'idea era quella Non era Il senso della battuta era che non hai ancora visto nudo Nel senso che c'è qualcosa di Di spaventoso se lo vedi nudo Ma è possibile Di base era un complimento pelato Fatemi prendere i campioni Vi odio tutti guarda Eh giusto giusto Eh giusto giusto Comunità Erano in due Facchio Se qualcuno vuole Dov'è 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 siete? Non più Giusto giusto Ma se hanno preso degli uccelli Dio buono Lo scrivo anche io botta dai Eh mi dissocio mi dissocio Voleva dire Yag Yag Ha sbagliato la versione del co Mi sembra che gli sia pure piaciuto Ma te cobra domani come si è messo? A 90 No 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 È stato Com'è? Com'è cobra molle? Volevi chiedermi com'è Negli ha sempre molle Molle Però Guardatevi Vi racconto questa qua no C'era uno Un signore anziano Che adesso È passato a miglior vita Con cui ho lavorato no Tanti anni fa Quando Quando facevo il bagnino No Ho fatto anche il bagnino io E questo signore qua Quando rastrellavamo la spiaggia Mi ci fa Io Però me l'ha detto in dialetto no Voi non lo capite magari Ve lo dico in italiano Guardate Guarda io ormai sono vecchio Però Comunque mi piace sempre no La 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 Esatto E allora cosa Cosa mi dice L'ho provato di tutte però Non mi viene duro no Non mi viene duro Allora ho provato Ho provato a ingessarlo Al 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 centro Però rimane Rimane mollo sulla testa E in basso Quindi pendola Ho provato allora a ingessarlo tutto Però Non va bene Allora mi ha detto Il segreto Di Di ogni uomo È che Anche se c'è il bellino mollo E non funziona più Finchè un uomo C'ha la lingua E un dito Non è mai finito Esatto Però me l'ha detto in dialetto Ve la devo dire in dialetto Ovvero Finchè no Mughali La lingua in Dio Non è mai finito Un po' si capisce Perché in dialetto Suona benissimo Oh ma dove sono i nemici? Cioè se i coglioni nel lavoro Mi chiamano Per chi è la messa domani Mi posso portare L'attrezzatura Per la porta Apri la porta Vai a scazzinare le porte Sì con le parole L'attrezzatura per streamare? Magari Lui stream anche al lavoro Ormai Ale è preso Vabbè dai oh Se ti impegni Magari diventa il tuo lavoro di base Cioè spettacolo Mica mollare tutto E fare questo Cazzo Il sogno di ogni Di ogni player Ma Ma a parte Cioè ma anche Avevamo una piccola entrata Sarebbe bello Eh sarebbe male Non sarebbe per niente male Poter arrotondare un po' Guarda che farlo Il mio severo Ma c'è una verde Ah non dai Ho cambiato l'arma Finalmente ho preso qualcosa di buono Oh vaffanculo Comunque dopo di questa stanza Ah bravo No Ale dai No 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 Ale Eh sì sì Mi ha già chiamato Mi ha già minacciato Mi ha già chiamato il comandante Ho capito Sì 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 Ehi sì 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 Bravi via Messaggio minatorio Magari posso gestare la porta anche Pure Confermato Oipi attivo E intro il volo sull'area C'è con i migliabri Che facciamo la settimana Ne rompere un po' di coglione A me per gestare gli da la porta Vabbè un clan Per me se pidella Sto pure A me a me guarda a me sul lavoro se mi chiamano devono essere in punto di morte perché se non li manda a cagare a me di farci vedere un po ma dov'era nato quello che è e muo' di orcherita per questa roba oh fatemi mettere sta cazzo di torretta su quell'aereo di merda di buono ma non ho il cobra dove si mette si voglio mettere la torretta di buono ok io voglio ma dove mi hai preso questo figa bravo si vuole sbloccare il combattimento uno qua dentro ma c'è anche il trams che gioco dietro dietro eh ho visto la torretta mantenete il side così la mia torretta fa un po' di dann ma non 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 ma c'era davanti sto qua che cazzo fa dio buono mi ha fatto fare il giro ma non 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 ma non 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 ma ora ora caracchi è figo lo devo provare cosa è tipo solo è solo l'enigmista ti sta chiamato però per sopravvivere eh ma scansio, scansio è un cheater, io l'ho sempre detto, voi non mi credete ma secondo me lo è secondo me scansio è il cheater questo qua saltava come un canguro, gli stavo sparando mentre tu gli sparavi, guarda la kill i colpi che arrivano di lato sono i miei, guarda, quelli che arrivano di lato lì a sinistra quindici due, no dai dove vai, Ale no, Ale no, Ale, mi piace, domani mattina c'è qualcuno? Ale, no di mattina no, può essere, io attacco verso tipo undici, mezzogiorno, però alle tre devo andare a lavoro eh può essere, perché devo fare delle cose a casa, ma frascansio è un cheater, è vero, frascansio citta, citta black te lo sei terzo, cobra mi saluto, una buonanotte è me, è granissimo ciao, buonanotte notte, Ale, notte, ci becchiamo domani sera ciao, ciao buonanotte, sì, buonanotte notte, notte vamos a ganar bella ragazzi si spaccano le lobby ma quella skin che c'hai fe che, cioè, cos'è del pass? Nemel no, dico Nemel ah, Nemel sì ma è nel pass quella lì? no, no ah, l'hai comprato, ok si, costa 1400 ah, ok, ok io non ho capito perché tutti c'hanno la skin, quella della ragazzina con le orecchie da gatto e vestita di bianco non riesco a capire il senso del che bello non capisco, ma ho detto, ma perché ho pibe, perché c'ha qualcosa di particolare oh, è un po' d'acquagliardo per me le skin che hanno più senso sono quelle scure di colore, cioè le skin scure, quelle lì sono le più, più bastarde a meno che ovviamente non sei in mezzo alla neve, eh, allora lì ma te scacciavi quello che portava a casa gli punti alla fine? c'era c'era l'altro Rocky, mi sembra che si chiamava invece anche lui teneva i punti in cima a te fai l'ultima il cobra dio ma questa è quella che la vinciamo catturate tutti gli obiettivi, eliminate i nostri rivali ma questa è la mappa paraponti principi cazzo, ma è da un botto che non faccio più sta mappa non è molto neanche uno, che cazzo? ma col carche due palle ma che cazzo? ma che cazzo? cazzo, ma parte, cioè è appena spito non può venire anche visto no, Peppe Peppe, che cazzo fai? Peppe avevo un pezzo di ca ti piace? guarda sto scarcio di merda dio bastà pezzo di cazzo è lì dietro che cazzo fai? vabbiamo giù bambini di disturbo attivo bambini alleato in zona bambini alleato in zona ho preso colpo in grande no vendicato tempo ma dove è? è incastanato il nemico cattura Charlie il nemico cattura Charlie prema di buono ma porca puttana madonna no ce n'è uno qua da me due vito no merda no 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 ma c'è anche l'aereo no porca mentre ricaricavo dio bono è tipo che la lilla ha fatto fuori te ne ha messo vado su c laga che sono su b no 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 perca no 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 alfa sicuro il nemico è un bravo il nemico è un bravo il nemico è un bravo che c'era vado percazio che cazzo che cazzo ovviamente alvoltenmi qua già in pre fire pre fire che cazzo che cazzo che cazzo vado 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 in pre fire vado 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 mamma mia questo caso grande no porca di quella troia puttana sono tutti lì eh cantorati su ragazzo scarci dio christo è un dito in culo si scarci è un dito in culo si ho catturato anche al prendiamo Charlie obiettivo Charlie al sicuro grande 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 l'altro qua l'altro no no due guarda uno l'altro 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 è un avvio alleato online siamo prendendo bravo il nemico controlla due obiettivi oh mica non ho poca ma porca troia non c'è un non c'è un sì non c'è un che di bine Eeeh dai porco di attenzione non girano mai si scende di me oh me lo trovo sempre tutti e tutti tutti e tre me li trovo in bocca coglioni ora quella lì che non riesco a mirarla è dietro a te vetti dietro certo che quello lì si vede il tipo può anche sparare non è che può stare solo lì dietro ma comunque sto scarci qua c'è qualcosa perché mi sono dato addosso con la spada ha fatto un salto e tipo mi ha spinto indietro porca piccola puttana c'è il tuo car di merda che quando è ora che devo sparare io ci mette due ore a far sparare un proiettile lui niente è una mitraglietta ma deve fare in culo lo vengono prendiamo charlie guarda una scarse buon vini di turno attivo nemici in fuga non fermatevi buon vini di turno attivo parli l'ultimo panino ma guarda che infame guarda 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 io con la spada che cercavo di uccidere lui mi spara che a me mi stai sparando a me cioè sei un infame beh non è mica classificata ti posso sparare si no però tu mi hai confuso con un nemico tu hai detto guarda quello con la spada mi stavi iniziando a sparare ah quindi lì Rocky ha il quello del multiplayer qual è Adriano che non me lo ricordo Adriano Adriana c'era Paul è forte in cerca di struggi mamma mia io l'odio per modalità oh ragazzi e se chiudiamo in bellezza andando a fare uno zombie ma te ne mesi spiegato l'hai scaricato e stefian niente non mi hanno neanche risposto non ti piace? eh io ci ho giocato due tre giorni un po' con Iale però ci sono dei passi cioè a livello di mira è molto legnoso molto legnoso sai che ti dico provalo col pad io l'ho giocato col pad e mi sono tornato meglio cioè in si lo so però anche di movement cioè tipo già non ti puoi coricchiare ma salti tanto ti puoi saltare a raffica come un grillo di buono poi la mira se sei da Mk fatica un po' cioè devi proprio però non è brutto eh non è brutto è un po' diverso dello solito eh però se devo giocare cioè ti faccio un esempio no? cioè se devo giocare a un sottoprodotto ad un gioco a COD hai capito che COD COD COBRA GOD mirate il dio COBRA ah ma il super l'ho già livellato al massimo io pensavo che mi rimanesse ancora non c'è aspetta vedo e quale arma? eh super di si eh super di si nooo Barakosama Barakosama non sono molto contento con noi ma l'ha fatta anche mia già che la devo fare nella raga devo finirci madonna che palle meglio di pina l'ha fatta eh zero e dot ce l'abbiamo con noi adesso Finch l'ho già beccato sto Finch inizia ma ho mai inizia e ma vorrei off興 lo dite va a destra andato è dietro è dietro porco diaz che finisce le munizioni così porca tua questo baracosa ma daga che il sospetto vato a pomper fai e dai mi sono soltato in testa come cazza fatto a farmi siamo sull'obiettivo alfa questo è solo diverso al 30 ragazzi per mano tutti qua e ci faccio anche io controllo postazione universal credit cazzo è no al baracco è una calda cazzo è facciamo di merda ma dai che sfucilata in mezzo ai denti che mi ha dato che potrebbe oddio beh quasi di fatto ma non ci credo dai pole ah vedi giocano tutti col col merda car si mica due obiettivi incasturati cos'è che secondo me è la gana cifra sono al car perché sono tutti dei raffinati c'è c'è delle volte che guarda non 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 minima parare mi sta venendo a farlo smart detto a destra detto a destra arriva da destra a te beh stai attento a lo spawn lì io guardo dietro uno dall'altra parte si si guardo io ma sotto? si no questi sono sotto però gli altri attento che salgano arriva ora arriva ora a destra a destra a destra un bel poverino quello l'abbiamo fatto quattro volte lui passa sempre di lì e non mai si è impallato no attento che arriva arriva te beh arriva di lì e mi ha preso quella roba lì oh ma c'è la cosa di di velox come vai perché in realtà paul è velox in realtà io ho sempre detto che paul è un cheater voi voi non mi credete tanto no no ah ma è nostro il nostro elicottero bene allora va bene oh stava per tirare un missiletto al tuo elicottero che mappa di merda questa era una delle mappe più giocate in assoluto ma non può farmi resuscitare barakusama dio cristo dove ho appena ucciso cioè come cazzo che mi mette proprio davanti quello che mi deve ammazzare ma come fa sto scemo di merda con la pistolina dio cristo dio ombicile madonna sto baraccoglione madonna po stiamo perdendo però ho notato bravo 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 avete fatto minchia raga comunque raga huge centurion livello 29 cioè spara già dove cazzo sei di buono senza senza pino senza uva via brutto verme che palla grande peccato non mi ha preso la spadata se n'era morta il nemico cattura bravo ci colpiscono duramente ma porca puttana il timing di sto gioco è assurdo c'è non passava nessuno un millisecondo arriva mandato subito uno no che tal il vero che sono io perchè l'ha detto black vabbè se lo dice black e black c'è sempre ragione quindi allora tu l'ha detto che confirma che è un cheater lo so si si lo è no chi è che l'ha tirata sta merda nemesis nooo ha sparato a carlo ma ultimo lo stesso grande grande si quello che tiro lì è un po strano comunque vabbè riportate che ha preso dell'uccello ma paolo ma te stai giocando sei come sei mercio paolo la messa co qui arriva ah ahahahahahahaha ah shit ah shit comunque se devi provare a cobrer a fatti un altro account tipo su steam noc ok tu incominci da zero il problema è che te devi fare il multiplayer e acquistarlo se no devi farlo nei momenti in cui hai la prova gratuita è come fare il multiplayer ti spari 40 kill perché sai che all'inizio ti fa un mischione e te lo dà proprio col tuo livello e vedi quanti ti riporta se cominciassi allora avuto giocato col profilo della Elena no? Elena Pod Dio santo c'è ti giuro che porca puttana una volta ho fatto tipo quasi 80 kill una morte cioè è una cosa assurda cioè è delirio proprio chi sono i QLF? quei ladri fanatici? quei lecafi? quei lecafi? universal credit ma ce li avevamo prima questi con noi? voodoo mafia minchia zolto no dominio ho capito qual è questo questa qua è quella da mettere le mine per terra dominio? voodoo ma che vieni su ritorno robie venga vogliano vedo che solo facesse le mine li vado a fare manzo aspetta lo spavano roi grande brother anche tank robin basta sia perché non arrivi tipo alle 3 del mattino trovare che c'è te tipo ci sono le 3 del mattino cioè noi stiamo per staccare tu arrivi è giusto è che cazzo stacchi la bambina tanto non ti va a dormire no devo dire la verità che dio bono è incredibile lei mangia tutto il giorno dorme tutto il giorno e dorme tutta la notte no io l'ho detto io gli ho scritto guardare c'è tev tex che è lì dietro lui ok grazie guarda guarda vorrei uscire fatti entrare ma dopo che sei stato tutta la notte su un su un colo cioè non ci credo per dispetto per dispetto ma non ti non riesco no tranquilla 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 tanto se è bastardo lo stesso arrivo su stiamo prendendo bravo ma dove sei stato tipo? oh io non ci capisco un cazzo in sta mappa vedo cose strane ah easy easy c'è allora c'è un passaggio a destra c'è un passaggio a destra o un passaggio a sinistra? nooo che smirata dai che dia dai che dia qua raga è qua ecco mi becca sempre che sono one shot questo che due palle come ha fatto sto coglione a sapere che passavo di lì figlio di una puttana lurida no ah non riesco a giocare io in questo non vedo la gente è uno qua raga eh qua dentro da qualche parte un lurido ma dai che due coglioni no mica stavo guardando dio caro stavo guardando la mini mappa se non lo la dava questo scemo da sinistra ragazzi sinistra minchia che no lu no lu no lu oh guarda che posto qua stiamo prendendo un'altra brava guarda non mi stavo mirando va be è che io non conosco bene la mappa se no guardate che sono tre vie sinistra centro e destra si ma non conosco i punti dove guardare e beh gli spot non li conosco bene nemmeno io eh bravo 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 due obiettivi catturati il nemico cattura bravo 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 stile in funzione basta questo i due pechini bravo 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 ma stiamo cu录ανato qua bravo 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 Ok, ok, ok. La vida abbiamo attivato Oddio Ribassando Arrivano aiuto No No ma cristo la madonna Non c'è il mio compagno Vabbè Vabbè Presi Che te l'è Oh creva che cazzo Ora siamo in vantaggio Ma come Oh st'arma qua Deve migliorare un po' la precisione No Hai visto il cobra come jumpa dai camion Ma dai Hai visto che la serata mi è arrivata in bocca No Il nemico prende bravo Ah sta matta qua è proprio no Mi domando su C raga Ciao bello Volo giù per terra Ma è nanna? Sì Come fai? Già non so come fai ora Ciao bello Ciao bello Tu vuoi definiti Esatto Caramuio Siamo sull'obiettivo bravo Ciao 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 Ecco in bocca Ma robbie e roi sono usciti No no Adesso c'era sempre Ah si sei qua trogliette Grandi Non sentivo più parlare Ho detto ma dove sono andate quelle troie Fa la pipì Ah è vero Eh si capisco Oh Sto po' dentro questo Adesso cambia un po' arma Oh comunque Ma scusa robbie ma spiegami una cosa Ma perché non riesco a invitarti? Cioè nel senso Mi dà l'opzione di scriverti Ma se tipo faccio per invitare Mi dice che non posso Perché c'erano crossplay forse No no C'ho attirato crossplay Ma tipo proprio non mi dà La possibilità di fare Tipo invita Tengroby No L'opzione Ma com'è possibile Sto scema del cazzo Madonna Sto scema del cazzo Cazzo spari Ma come perché arriva prima lui Cristo madonna Va bene Vabbè Ragazzi Datemi un po' una mano su Eh eh Ero su c Vabbè No io sono morto 50 milioni di volte Madonna sto malti E' brutto coglione Porca troia Scemo di merda E' impossibile E' impossibile Non riesci a Dai ma come cazzo Ma non ci credo Ma ero dentro Tipo le case Vabbè Dio niente Facciamo in uno in meno Però Eh lo so Ciò viene sbloccato Ah niente Spero che sto malti E' un coglione di merda Ma Roy? Roy? Sto qua Sto qua Eccoci Ah Roy Dai io però raga Faccio Ciao Roy Io però faccio l'ultima raga E son bollito Eh dai Adesso ha iniziato a giocare Eh nu cazzo No è domani Se domani sera ci siete Se domani sera ci siete Però che ci siate Non che ci facciamo Dai una partita Alle verte Poi A tre del mattino Domani Oh domani Facciamo la challenge Però su domani Sceva sul tardi Facciamo Multiplayer Ne vinciamo una Eh facciamo Ritorno Ne vinciamo una Facciamo Batterio Ion Ne vinciamo una E dopo Andiamo a vincere Su Xdefiant Eh ma ce l'avete Tutti Xdefiant? Sì sì Io sì Eroi? Lo so Lo so Lo so Lo so Ce l'ho Però l'ho provato Una volta Non funzionava Bene Forse Lo scari Ma anche Cioè Boh Io l'ho provato E' carino C'avevano giocato Un po' tutti Però Il movimento E' un po' goffo Devo dire la verità Eh ricorda un po' I cod vecchi Sì i cod vecchi Molto goffi Cioè un po' troppo E certi poteri Sono troppo P Cioè il tizio Che diventa invisibile Edio caro ragazzi Cioè diventa invisibile Te lo trovi di lato Dici ma dove è passato Sto qua Inoltre non so Diventa invisibile Ma c'è anche il potere Che ti spara un colpo E ti uccide Cioè C'è da lì ancora qualcosa Non lo so L'ultra resistenza Ma io in quel gioco Sono i passi Che proprio Mi riesco a Sentire bene Ma i passi I passi li sento Però Cioè Comunque E' abbastanza macchinoso Ma si sentono meglio Che code forse Sì sì I passi si sentono Abbastanza bene Però Dovrei mettermi anche io Il coltello forse E' una spada Prendiamo alfa Vado ai micidiali Non lo sai No C'è ancora quello di prima Michele è foleo Il nemico prende bravo Bravo perso Prendiamo Charlie Sto andando birth dati Dio l'h Siamo sull'obiettivo Charlie Perdiamo alfa Beh ma questo ce l'avevo davanti Non mi ha visto scusa Prendiamo Charlie Il nemico controlla tutti gli obiettivi Charlie sicuro Beh è pure il caasano che cecchino Non mi hanno subito Allora Non mi hanno subito Ho finito i colpi Gli occhiato Oh Ma che cazzo ha fatto Vabbè però Mi hanno subito i colpi Gli occhi È uno su B Assista 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 Lasciato Siamo sull'obiettivo Charlie Siamo sull'obiettivo Charlie Siamo sull'obiettivo Charlie Zio cantante No Comunque mi va scatti a me A me prima dava da brosdati di nuovo Cioè Le palle c'è il cuore venite venite cosa mi ha fatto questo con il car di merda ecco il car epic field quella raffinata dai ma guarda te che me lo fa sbucare sopra veramente sto passando non ci credo gli ho tirato il coltello e non me l'ha preso no porca tre non mi è partita la spada ma che ci sono tutti i fenomeni lo credono di essere mannaggia la puttanazza dai in caccio uve potevi farlo prima ah ma non ho visto i giocatori caccio cavallo caccio cavallo c'è un caccio ah guarda questo guarda questo guarda questo minca explosion com'è caccio ha fatto bravo però guarda questo guarda questo guarda questo guarda questo guarda è già qui L'abbiamo perso? L'abbiamo perso? L'abbiamo perso? L'abbiamo perso tutti, ma non è ancora finita. Andiamo a pigliare l'alto. Prendiamo alpha. Cosa c'aveva in mano, quello? No, ma com'è possibile, dai, cioè... Due shottate, sto coglione. Grande prime uve. No, incascio uve. Siamo sull'obiettivo bravo. Madonna, sto epic coglione, Dio Cristo di Dio, sto scemo di merda. Con sto cazzo di car. Ma come fanno a fare un'arma così stupida, Dio santo, raga? No, che ho mirato. Non c'è, non c'è. Sì. Perdiamo alpha. Siamo sull'obiettivo, Charly. Siamo sull'obiettivo, Charly. Siamo sull'obiettivo bravo. Il nemico verde, Alpha. Solo di evito controllo tutti gli obiettivi. Obiettivo bravo al sicuro. Tieni Gioia, prendilo in bocca Wow Tutto fatto Ah, qua non si può da una sola parte Bravo, perso Prendiamo un pezzo alto Mmm, cortesco lì, non riesco a fare Cara, basta dirlo No, vabbè, buona, l'ho reso, pazza di car Sto facciamo da su Alpha, daga C'ho i campi nelle mani, tra un po' Caccio cavallo No, mica, 200 colpi in culo li ho messo, non è possibile Vabbè Vado su C Siamo sull'obiettivo Charlie La vedo brutta Nooo Siamo sull'obiettivo Charlie C'è Shem su A e un altro, ecco il cecchino Io ero su Charlie, lo stavo pigliando, gli ho caro, ma guarda a casa me li fa spawnare tutti lì Tutti col car, vabbè lì Ah, però dai, non è possibile, porca la madò Ma vai a fare in culo Te, il tuo cazzo di gladio, stiamo fitta un super nel buco del culo adesso Ciao, sono... Oh, ha rotto il cazzo questo Vitor in arrivo nel settore Controlliamo Alpha Il nemico cattura Charlie Oh, ma sti quasi stanno impegnando per vincere comunque Cioè Porca miseria Questi volevano proprio vincere Guarda, ma guarda con il cecchino, sicuro, guarda il carro, guarda Eh, ma questo carro, il carro da merda No No Ah, era quello che girava Col plaganale, ti ha ucciso col plaganale Caccio cavallo Caccio cavallo Guarda i caccio Guarda i caccio Bene ragazzi, io direi che chiudo qui la stream Che per questa sera abbiamo dato E ci vediamo Tecnicamente, teoricamente questa sera Bella Ciao, bene Grazie